Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce a Torre del Greco, oggi 19 settembre, la festa di San Gennaro. Il significato di questa festa? San Gennaro è il nostro patrono, risale questo suo patrocinio per le nostre terre vesuviane al 1500 perché è legato alla protezione su circa gli eventi vesuviani. Qui in Basilica è sentita la presenza e il culto di San Gennaro dopo la celebrazione di questa mattina, questa sera dopo la messa vespertina faremo una breve processione, arriveremo al Palazzo Baronare per fare lì nel cortile del palazzo una preghiera per la città e poi al rientro sul sagrato della Basilica daremo la benedizione alla città di Torre del Greco con la reliquia del nostro santo patrono. Certo la vicenda di San Gennaro è legata al prodigio del sangue, noi sappiamo che non va letto in maniera magica, non è auspicio di presaggi positivi o negativi ma è solo il segno della presenza nel sangue del martire, del sangue di Cristo per cui quel sangue dice la presenza di Gesù in mezzo a noi e dice anche la vivacità del santo patrono nella nostra chiesa diocesana. I santi ci sono dati come modelli da imitare, come amici nel cammino di fede e come intercessori presso il Signore.